A due mesi dall'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata, il presidente Marcello Pittella rassegna le dimissioni irrevocabili. Nella lettera consegnata al vicepresidente Flavia Franconi ha scritto che ritiene esaurito il mandato ricevuto dagli elettori. Il governatore Lucano era stato letto nel 2013. Dalla scorsa estate è sotto inchiesta per una presunta manipolazione di concorsi e raccomandazioni nelle nomini ai vertici della sanità lucana. Un'indagine che l'ha costretto anche agli arresti domiciliari dal 6 luglio e sospeso dall'incarico di presidente della Basilicata. Nei giorni scorsi i suoi legali hanno presentato un nuovo ricorso al Tribunale del Riesame contro la misura cautelare del divieto di dimora Potenza a cui è sottoposto dalla GIP di Matera. La decisione verrà assunta nell'udienza fissata per martedì prossimo 29 gennaio. Le dimissioni Pittella le ha presentate nella giornata di giovedì. Sono grato a detto alla mia gente per l'onore che mi ha concesso fiero di questa regione. Un ringraziamento ha aggiunto a quanti in questi anni hanno lavorato sodo ed hanno creduto nel nostro progetto. Si tornerà alle urne il prossimo 24 marzo.